a 200 metri dalla vetta causa piaghe perché dire vesciche non rende per me l'escursione in salita finisce qui che male a 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